Ciao a tutti, come promesso questa sera faremo una ricetta utilizzando un ingrediente sardo, ovvero la fregola, amata da tutti quei sardi e anche da me, essendo la Sardegna uno dei miei posti preferiti dove andare in vacanza. Difatti sono stato molto spesso in zona Valle d'Oria, Castel Sardo, veramente bellissima. Non farò una ricetta sarda, ma utilizzerò appunto la fregola. Ora faremo, per fare questa ricetta ci occorrono dei pomodorini, sardo a lavorare cipolla per il brodo, delle mandorle e dell'erba cipolline, ovviamente questa spicola. Prima di lavorare la spicola andiamo a mettere in pentola un goccio d'olio d'oliva, dopo tagliamo il sedano, la carota e la cipolla. Mettiamo anche un pomodorino schiacciato a metà. Ok, intanto lo porterò sul gas. Ora prenderemo i pomodorini e li taglieremo a spicchietti non troppo grandi. Tagliati anche i nostri pomodorini possiamo andare a sfirettare la nostra spicola. Ci sono vari metodi per sfirettare il pesce, questo qui diciamo che è il più corretto. Partiamo dalla testa, togliere tutta la carne dal pesce in modo da non sprecarlo. Ok. Vedete? Ecco il nostro piletto. Invece poi c'è quello più veloce che fate direttamente il taglio vicino alla testa, andate sul corpo, tenete la mano su e andate a tagliare tutto il filetto. Però qui rimarrà sicuramente un po' più di carne, vedete qui ce n'è di meno e qui ce n'è di più. Però, visto che dobbiamo fare un fumetto, a noi non ci interessa. Altra cosa da fare, mi raccomando, per il fumetto togliete gli occhi, andrebbero tolti anche la coda e la risca sopra, però la facciamo un po' più rustica. Togliamo anche la parte qui dove ci sono più spine. Se non avete una pinza per togliere le spine, basterà usare un cucchiaino e con il dito. È un po' più difficile, però sicuramente eviteremo di mangiare spine. Un filetto lo lasciamo intero. Ovviamente la spicola è già stata squamata e tutte le verdure erano lavate. No, lo dico perché l'altro mi è stato fatto un appunto. Chef, ma non ha lavato il broccolo romano? Sì, le verdure e tutto quello che utilizzo è precedentemente lavato. Mi sembra ovvio non dirlo. Allora, un filetto lo lasciamo intero, l'altro lo andremo a sfilettare. Toglieremo anche la pelle. E lo faremo a bocconcini. Ok, tutte le nostre basi sono pronte, possiamo andare in cottura. Ok, facciamo rosolare un po' i nostri vegetali. Poi sfumiamo con della soia. Aggiungiamo un po' di curcuma. E infine l'acqua. E facciamo insaporire il nostro brodo. Questo è un fumetto a little bit orientale. Ora, a crudo, andremo a calare le nostre lische. Ricordate il filetto che avevo pulito? La pelle non l'ho buttata, l'ho messa con dell'olio nella carta da forno. E adesso l'andrò a mettere in padella con un peso sopra. Ci siamo, vedete? Così, in questo modo, la pelle diventerà secca, ma non si brucerà. Guardate che bella, che bel colore. Ora, nello stesso padellino, non fa niente se c'è un po' di grassetto del pesce, andiamo a tostare le nostre mandorle. Ok, proseguiamo. Filo d'olio in padella, facciamo imbiondire l'aglio e andiamo a mettere i nostri pomodorini. Una volta appassiti un po', andate a togliere il nostro spicchio d'aglio e calate la nostra fregola e fatela tostare un po'. Una volta tostata, andate ad aggiungere il nostro brodo di pesce e fate cuocere per circa 8-9 minuti. Poi dipende dalla cottura, ovviamente, della vostra fregola. Praticamente va cotto come fosse un risotto. Ok, quando mancheranno 2-3 minuti alla cottura della nostra fregola, andremo ad aggiungere i bocconcini di spicola. Altra cosa da fare, vedete? Qui ho messo un setaccio che non va a finire nell'acqua e metteremo la spicola che ci siamo tagliati prima come a cuocere al vapore. Per circa 2-3 minuti mettete il coperchio. Ora possiamo andare ad impiattare. Scusate il piatto piccolo, ma mi servirà per la foto. Ok. Ora possiamo andare a condire con il restante. Quindi, fatta la nostra... Andiamo a mettere... I pezzetti di spicola, la pelle di spicola croccante, sentite? E chiudiamo con erba cipollina e le mandorle tostate. Ed ecco a voi la nostra fregola. Grazie a tutti.